Buongiorno e benvenuti a Mattino 6, la rassegna stampa e TV6 per vedere le prime pagine e i quotidiani che trovate già in edicola, le principali notizie della nostra regione e non solo. Partiamo, vedete alle mie spalle le prime pagine dei quotidiani regionali da cui iniziamo come di consueto in questa prima parte e iniziamo dalla prima pagina del centro edizione di Pescara finti corrieri truffano gli anziani, questa è l'apertura e a Pescara le vittime pagano migliaia di euro ma invece dei computer trovano del riso insomma non esattamente quello che si sarebbero aspettati. in alto per una vicenda che riguarda un abruzzese il re dei Canadair vince la causa da 50 migliori si tratta dell'abruzzese Giuseppe Spadaccini invece finisce in Spagna la lunga fuga di Igor il Russo catturato il killer di Budrio lo ricorderete insomma qualche tempo fa purtroppo protagonista di efferati omicidi in Emilia Romagna nelle cronache e allora visto che siamo a Pescara a Pescara rimaniamo nuove opere per 190 milioni c'è il Sì del Comune piano per il 2018 cronaca va contromano sulla variante causa un incidente un pensionato percorrendo appunto la variante ma nel senso di marcia non ha fatto giusto per lo sport Zeman rivoluziona il Pescara domani l'incontro con il Novara tante le novità di formazione che ci si attende in casa bianco-azzurra sarà una partita da dentro o fuori per Zeman probabilmente almeno questo è quello che sembra peraltro Zeman che parlerà tra poco in conferenza stampa della classica conferenza stampa pre-gara la fotonotizia con la fotonotizia ci spostiamo a Montesilvano studenti in carrozzina a caccia di barriere architettoniche questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara cambiamo andiamo su quella di Teramo ovviamente cambia il titolo Castrum i processi saranno riuniti tangenti a Giulianova nella prima udienza e scontro tra l'accusa e la difesa e poi nella fotonotizia purtroppo una cattiva brutta notizia per la cucina teramana e non solo perché lo chef Marrangoni ucciso da un malore a 51 anni era lo chef titolare del country house Borgo Spoltino di Mosciano ma soprattutto un alfiere come leggiamo della cucina tradizionale e a chilometri zero si torna a sciare a Prati di Tivo si riapre entro Natale per il calcio lo sport oggi alle 18.30 un teramo d'attacco che va sul campo della Reggiana ultimo impegno del girone d'andata penultimo del 2017 per la formazione di Asta e per la cronaca invece terzo assalto a terra bianca i ladri fanno esplodere la cassaforte del distributore e della Kuwait vediamo altre notizie in provincia Tortoreto maxi a manco dei soldi per le menze e invece una buona notizia rimanendo però sempre nella vibrata la vincita a Ternosecco da 92.000 euro a Sant'Egidio alla vibrata in realtà 92.000 come leggiamo e 500 euro e beato il fortunato cambiamo edizione andiamo sull'edizione Teatina Natale spento e caos luminarie Chieti strappo con i commercianti il comune cancella gli spettacoli con i laser avvasto l'obitorio scoppia 5 salme in pochi spazi scendiamo a Lanciano corso senza auto con la nuova pavimentazione ancora una notizia che riguarda i trasporti ma le carenze evidentemente dei trasporti perché dentro gli autobus della tua piove in viaggio con gli ombrelli protestano gli alunni a casoli e ad atessa insomma non proprio un viaggio ricco di comfort la foto notizia la festa dello sport a Chieti l'arcivescovo forte abbraccia 700 atleti del CSI che vediamo raffigurati proprio nella foto centrale vediamo le quattro dizioni del centro andando su quella aquilana ascensore in tilt paziente muore l'Aquila tragedia in ospedale l'ASL si difende nessun nesso tra il decesso e il blocco appunto dell'ascensore entriamo nelle cronache all'Aquila troppe rapine benzinaio vieta le banconote in basso a Scanno tragedia sfiorata a causa della presenza di un masso sulla strada provinciale tra Scanno e Villalago come leggiamo nell'attacco del pezzo poi una notizia che ci fa andare ad Avezzano hanno sparato per uccidermi parla il commerciante che ha affrontato i banditi la fotonotizia purtroppo un'altra un parla di una triste notizia paese sotto shock e siamo a Balsorano dove oggi si svolgeranno i funerali di Oana paese sotto shock per la morte della giovane Oana che ha deciso giovedì di porre fine alla propria esistenza nel bagno della sua abitazione a Case Castella la base della tragica decisione ci sarebbe la perdita del posto di lavoro chiudiamo con le quattro edizioni del centro e cambiamo proprio giornale andiamo sul messaggero con delle parole volevo gambizzarlo per vendetta chieti ragazzino ruba la pistola del nonno per punire il rivale che lo aveva picchiato la madre vede la cassaforte aperta e chiama la polizia e allora gli agenti riescono a bloccare il minore sempre per la cronaca a Teramo terzo colpo di fila al distributore della Kuwait in alto saliamo per vedere c'è molto sport in alto perché la vastese in serie D prepara il derby con l'Aquila colpo Francavilla che ha tesserato Alexic proprio ieri è diventato ufficiale e poi saliamo di categoria in serie C il Teramo oggi al Mappei Stadium per il primo successo sperando nel primo successo fuori casa e invece in serie B occhio Pescara Corini vuole il bis di vittorie contro Zeman peraltro nella seconda parte ascolteremo anche le parole di Antonino Asta per il Teramo e proprio di Eugenio Corini che ieri ha parlato nella gara contro il Pescara di domani la polemica noi ignorati la CNA accusa la regione sul bilancio andiamo avanti e analizziamo bene la prima pagina del messaggero perché c'è l'allarme droga a Montesilvano per lo spazio agli adolescenti vendevano droga agli studenti e ci sono due arresti sale l'allarme per i baby consumatori ovviamente accanto l'industria torna a crescere una buona notizia ma a piccoli passi lo studio cresa imprenditori più consumi il mercato interno ora va meglio rispetto all'export in basso per la giustizia magistrati il PM Gennaro Varone lascia Pescara e andrà leggiamo a ricoprire lo stesso ruolo in una delle più prestigiose procure d'Italia ovvero quella di Roma chiudiamo le prime pagine di casa nostra andando in provincia di Teramo con il quotidiano la città D'Amico non ha paura di candidarsi Luciano D'Amico rettore dell'università di Teramo il rettore si dice pronto a passare in politica se sarà opportuno e se sarà richiesto e vedremo se così evidentemente sarà se ci saranno le condizioni e se ovviamente gli sarà richiesto poi l'allarme rientrato tracce di trimetilbenzene nelle controanalisi in una in questa fontanella che vedete che vedete raffigurata allarme poi effettivamente rientrato e scomparse sono scomparse le tracce di trimetilbenzene funerali a Borgo Spoltino come abbiamo visto di spalla lo Schief Marrangoni stroncato da un infarto a Tortoreto aperta l'inchiesta sul buco dei buoni pasto e poi il quarto colpo in un mese a Terra Bianca presa di mira la stazione di servizio lungo la Teramo Mare la sfida del Teramo a Reggio Emilia osa il Teramo con la coppia d'attacco formata da Tulli e Bacio Terracino fischio d'inizio alle ore 18 e 30 andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali per vedere anche le altre notizie che riguardano l'Italia e aspetti anche internazionali e proprio iniziamo da Repubblica perché ci sono le accuse alla Boschia al Ministro Boschia all'Arbe nel PD giù i sondaggi ovviamente la questione è quella che riguarda Banca Etruria Consoli la vidi ad Arezzo ma non parlò imbarazzo Dem Gentiloni sarà ricandidata lei al Bivio Renzi dice non voglio le sue dimissioni le parole dell'ex ADD Anton Veneta dall'altra parte vediamo queste quattro foto che raffigurano Igor il Russo in realtà Norbert Fer in quattro situazioni differenti insomma anche abbastanza trasformissa Igor il Russo la fuga si chiude nel sangue uccide due agenti e un allevatore e poi lo catturano è finita nel sangue in Spagna la fuga di Norbert Fer 36 anni agli assigorri russo latitante dallo scorso 8 aprile è stato catturato nella provincia di Teruel in Aragona dopo aver ucciso tre uomini un allevatore e due agenti della guardia civil il ricercatore assassinato Regeni l'Egitto consegna il dossier sull'inchiesta i genitori proprio di Giulio Regeni è un primo risultato dicono in basso il Biotestamento la rivista dei gesuiti è una buona legge ma ruine attacca e porta all'eutanasia la quarta pagina l'Italia dei nidi a due velocità persi 9.000 bambini allarme soprattutto nel sud Italia cambiamo quotidiano andiamo sul Corriere della Sera che torna sulla vicenda dell'arresto di Igor il russo ma focalizzandosi soprattutto sull'analisi di quelli che potrebbero essere di quella che può essere la rete dei complici di Igor il killer di Budrio uccide altre tre persone preso in Spagna ma è in forse l'estradizione l'arresto il criminale aveva contatti dalla Serbia alla Francia hanno coperto una latitanza durata 8 mesi in alto le questioni che riguardano le banche che abbiamo letto anche su Repubblica il banchiere ovvero Vincenzo Consoli l'ex AD di Veneto Banca racconta l'incontro a Casa Boschi il sostegno di Gentiloni presidente del Consiglio che dice comunque sarà candidata con il Partito Democratico il tempo che torna a parlare delle vicende dello stadio della Roma ecco il mio stadio parla il costruttore che svela tutti i segreti del progetto a Tordivalle apre il 2020 col nome di uno sponsor e poi su Raggi Caltagirone Pallotta Banca dico che forma il tempo con Parnasi che vedete raffigurato appunto nella foto e questo più o meno dovrebbe essere come sarà lo stadio della Roma Tana per Igor preso finisce in Spagna la fuga del killer di Budrio scontro adesso sull'estradizione in basso la sfida di Dell'Utri smetto il digiuno ma non mi curo l'ex senatore malato è in carcere cambiamo quotidiano ma rimaniamo sempre a Roma con il messaggero altro quotidiano di spiccatamente Capitolino banche il richiamo del colle guerra sulla vigilanza Mattarella davanti agli ambasciatori rassicura sul riordio del sistema Gentiloni difende la Boschi sarà ricandidata Consoli era al vertice su Etruria ma non parlò in alto Igor finisce la fuga in Spagna la Spagna però dice non lo estradiamo e poi il giallo del passaggio in auto e la soffiata per aiutarlo c'erano anche evidentemente lo leggete delle protezioni in Italia la resa di Ryanair sì al sindacato dei piloti la mossa di Oliri non ferma però la protesta del personale della compagnia low cost irlandese con Ryanair che ha riconosciuto il sindacato dei piloti altra prima pagina la stampa è dunque quotidiano torinese banche dopo boschi la commissione adesso punta su Renzi Visco e Ghizzoni ora le audizioni calde il partito studia il contrattacco Maria Elena potrebbe essere candidata nel collegio di Arezzo e poi l'ultima battaglia del killer di Budrio preso dopo otto mesi Igor uccide tre persone prima della cattura in Spagna libero che ha un'altra apertura i medici bravi sono cani l'Europa vuole pastori tedeschi in corsia l'incredibile storia di Liù addestrata a Grosseto che solo con l'olfatto riconosce se un paziente ha un tumore la commissione salute dell'Europarlamento promuoverà l'utilizzo degli animali in ospedale per salvare delle vite a centro pagina ci voleva la Spagna per arrestare Igor Blitz a Saragozza il bandito uccide tre persone poi le manette Madrid se lo terrà l'imprendibile assassino in mutande in basso una notizia che riguarda le province che dovrebbero essere chiuse invece assumono ancora imbarcano personale che non serve e noi paghiamo accanto l'EPM si difende mai chieste foto hard l'assistente di Bellomo tirato in ballo per le minigonne il manifesto altro titolo territori di sangue uccisi ieri dall'esercito israeliano quattro palestinesi che protestavano nei territori occupati contro la decisione di Trump di calpestare il diritto internazionale riconoscendo tutta Gerusalemme come capitale di Israele la collera del mondo islamico non si placa e poi su Ryanair trattiamo ma solo con i piloti mezza svolta del simbolo del sistema low cost altra impresa carattere internazionale ovvero Amazon accordo con l'agenzia delle entrate paga il fisco 100 milioni il mattino il colle blinda le banche Mattarella il riordino del sistema è servito e i gentiloni difende Maria Elena Boschi il premier annuncia che la sottosegretaria sarà ricandidata dal partito democratico dicendo ha chiarito tutto di spalla dopo la cattura in Spagna Igor potrebbe evitare anche l'ergastolo e poi il lavoro che cambia come avete visto da una parte il sindacato dei piloti vince Ryanair è pronta a discutere e poi il sindacato dei Pony Express vuol contrattare gli algoritmi insomma due esempi di lavoro profondamente diverso rispetto a quelli tradizionali che avevamo imparato a conoscere l'avvenire più ricchi più poveri l'indice del benessere sostenibile usciti dalla crisi ma salgono disuguaglianza e sfiducia nella politica italiani meno soddisfatti delle relazioni sociali scende anche lo spirito civico ci sono però confortanti segnali di ripresa soprattutto che vengono dal volontariato e poi per la politica Gentiloni sta con Boschi sarà candidata il premier vuole chiudere il caso Banche per la Brexit via libera dell'Unione Europea alla fase finale del negoziato con Londra ovvero un negoziato che dovrà portare Londra nel 2019 ad uscire definitivamente dall'Unione Europea il secolo XIX caso Banche nuove audizioni Renzi in trincea Gentiloni difende la Boschia è chiarito ma dentro il PD cresce il malumore poi vedete nella foto notiziale tante facce di Igor il russo l'ultima fuga di Igor il killer dai mille volti vedete in quanti modi era riuscito magari a trasformarsi sfuggendo alla cattura almeno fino a ieri chiudiamo con il sole 24 ore che apre con le banche europee le 21 big riducono i rischi NPL e leva Draghi Unione bancaria da completare al più presto e poi la produttività tedesca nell'industria 4.0 emiliana e vedete l'inchiesta le sfide della manifattura la produttività del mondo del lavoro sulle multinazionali estere il confronto con le imprese italiane insediate proprio in Emilia Romagna e poi una notizia che riguarda la tv Mediaset blinda il CDA prove d'intesa con Vivandi atteso a gennaio l'accordo per chiudere la lite su premium andiamo adesso sui quotidiani sportivi per vedere le principali notizie anche in questo caso iniziamo dalla gazzetta dello sport che parte con il super sabato in campo la capolista e due inseguitrici Inter crash testa oggi alle 15 l'Inter gioca contro l'Udinese a San Siro Spalletti cerca un record personale ma invette in Italia per tre turni di fila e avvisa mercato da chiarire il club sveli le sue intenzioni in alto visioni che riguardano il Milan e la UEFA i motivi del no UEFA sfiducia su debiti e garanzie Fassone che dice sono delle richieste impossibili il caso Donnarumma Raiola mantiene Gigio in stand-by Fassone via solo se vuole lui la di milanista continua a dialogare con la gente del portiere e aggiunge non c'è nessuna spaccatura con Mirabelli di spalla alle 18 perché insomma sarà un sabato molto importante dal punto di vista della Serie A c'è Torino-Napoli Belotti-Mertens alla ricerca con fiducia del gol perduto vedremo chi tra i due segnerà magari prima ammesso che qualcuno segna ore 20.45 invece scende in campo la Roma contro il Cagliari missione speciale per Gekko e Schick insieme dall'inizio per segnare di più dall'altra parte invece c'è lo scatto Juve per Emerson Palmieri se Alessandro dovesse andare via subito intanto domani ritorna Piazza dopo nove mesi il Croato sarà convocato da Allegri per la partita con il Bologna dopo il grave infortunio che lo ha visto ai lui protagonista il Corriere dello Sport il titolo anche qui la foto è dedicata a Luciano Spalletti la prima svolta Inter all'assalto dell'Udinese alle 15 Spalletti pronto alla volata per conquistare il titolo d'inverno che finora non ha mai vinto e come vedete oggi ci sono tre grandi anticipi perché gioca anche il Napoli alle 18 Sarri sfida il Toro con i tre tenori e alle 20 e 45 la Roma con Gekko e Schick vediamo in basso in Serie B ieri 2 a 2 nell'anticipo tra Foggia e Venezia finale shock Foggia con Lecaus 2 a 2 con Venezia lite tra i presidenti nuoto medaglie azzurre 3 argenti e 2 bronzi agli europei per lo sci è una rivincita in discesa ma saliamo in alto per vedere altre notizie che riguardano proprio il Milan Milan solido non si vende non UEFA il piano finanziario ma Fassone rassicura i tifosi rossoneri Nyon rifiuta l'accordo incertezze sul debito e chiudiamo con tutto sport questa è la prima pagina del quotidiano che come al solito dà ampio spazio alle squadre torinesi Juve chi la odia di più purtroppo domani è trasferta a Bologna tra le città più ostili con Napoli e Firenze addirittura ci spiegano anche il perché in alto Toro Napoli ore 18 Mijailovic si schiera Scudetto Tifo Sarri e poi alle 15 invece Inter Udinese Spalletti in calza Suning chiarezza sui rinforzi il Milan l'UEFA non crede a Yongongli via Gigio e Suso questo è l'interrogativo che si pone per la Serie A la Roma cerca gol Dzeko Schick dall'inizio contro il Cagliari questa era l'ultima notizia per le prime pagine adesso spazio alle previsioni del tempo poi la pubblicità e poi rientriamo per vedere analizzare meglio i quotidiani di casa nostra dall'interno a tra poco seconda parte di mattino 6 e allora entriamo all'interno dei nostri quotidiani dopo aver visto molto dettagliatamente le prime pagine partiamo con il centro e allora partiamo da come cambia l'urbanistica perché la regione dice basta al super consumo di suolo approvato in giunta il progetto di legge che prevede la rigenerazione urbana l'assessore Di Matteo dice uno strumento che sburocratizza il sistema e proprio a questo proposito noi andiamo a vedere il servizio realizzato dalla nostra redazione Assessore Di Matteo oggi un convegno importante qui all'Arum a Pescara per parlare di tutela e di uso del territorio i dati più importanti della giornata saranno per la prima volta una legge urbanistica con poche pagine rispetto a quella che era l'andazzo storico dove si facevano quei grandi faldoni che solo per leggere ci volevano i mesi e complicavano la testa sia all'utente sia all'amministratore e sia al legislatore l'altro aspetto che è poi collegato al primo è la sburocratizzazione che è una necessità un'esigenza della società moderna va detto che poi tra le finalità la forza di questa legge è quella che cerca di coniugare in maniera significativa il rapporto tra il governo del territorio che dovrà essere sempre legato alla sostenibilità alla vivibilità e alla qualità del territorio stesso senza utilizzo evitando di utilizzare nuovi terreni per cui scinde la parte edificata dalla parte non edificata a differenza del passato dove nei piani regolatori c'erano le aree e nella parte edificata c'è la possibilità di spaziare per la rigenerazione per il recupero dei fabbricati i meccanismi di perequazione compensazione tutto quello che può essere anche interpretato nel rapporto pubblico preato per rilanciare l'edilizia continuiamo nella lettura rimaniamo sul centro verso le elezioni Zelli mille iscritti in sei mesi si presenta azione politica in basso rifiuti e polemiche Movimento 5 Stelle il nuovo piano è già vecchio Sara Marcozzi accusa non scongiura l'ipotesi di un inceneritore andiamo adesso sulle colonne del messaggero perché vediamo se c'è o no l'uscita dalla crisi industria consumi e produzione segnali di risveglio cresa e imprenditori i dati sono positivi anche se la crescita è modesta meglio il mercato interno che l'export bene il settore chimico e i trasporti il rischio è legato ad un'ulteriore crescita dei mercati emergenti e difficili rapporti con il mondo bancario anche in questo caso andiamo a vedere il servizio il sistema manifatturiero abruzzese mostra una lieve fase di crescita con risultati sul mercato interno migliori di quelli sull'estero e incrementi su base anno assai più contenuti di quelli su base semestrale lo dicono i dati pubblicati resi noti oggi dal Cresa Abruzzo e da Confindustria sono dati confortanti che vanno nella direzione di una ripresa noi li stiamo presentando in questa occasione per la prima volta unitamente al Cresa con il quale abbiamo fatto un accordo e quindi per la prima volta avremmo e stiamo presentando questo piano concentrato nelle due posizioni associative Camere di Commercio e Confindustria e Confindustria i dati sono in ripresa certamente in linea con quelli nazionali e quindi europei in Abruzzo c'è da fare ancora molto però perché per agganciare ulteriormente la ripresa bisogna che ci sia una pubblica amministrazione che recepisca le esigenze delle imprese che abbandoni in qualche maniera la cultura anti-impresa che continua a imperversare nella nostra regione una pubblica amministrazione 4.0 in pratica perché noi siamo lanciati come imprese nella evoluzione di questo nuovo paradigma produttivo che è costituito dall'industria 4.0 ma per attenere le velocità e l'evoluzione di questo nuovo schema operativo bisogna che ci siano risposte concrete anche da parte della pubblica amministrazione Continuiamo la lettura del quotidiano ritorniamo sul centro con la pagina iniziamo con l'area che riguarda Peschiara nuovi parcheggi e strade si ha i lavori per 190 milioni il consiglio comunale varia in tempi record il nuovo piano per gli interventi pubblici si punta sulla riqualificazione dell'area di risulta e sul rilancio delle periferie queste sono le opere per il 2018 e vedete riassunte le opere più importanti proprio del 2018 dunque quello che ci attende nel prossimo futuro andiamo avanti sempre a Pescara chi dona il cibo ai poveri avrà uno sconto sulla Tari il consiglio approva la proposta della lista Teodoro per le attività commerciali la Marchegiani tariffe più care del 2018 per avere un servizio più efficiente e vediamo quanto dovrebbe costare la Tari nel 2018 anche in questo caso tabella riassuntiva a Pescara cronaca anziani truffati da finti corrieri postali hanno pagato migliaia di euro per dei computer ma nei pacchi c'era solo del riso saranno fatti un grandissimo risotto però insomma i computer non li hanno avuti i carabinieri indagano su due casi in pochi giorni e sollecitano la massima attenzione i consigli per evitare le truffe ovviamente la prima non aprite gli sconosciuti non mandate i bambini ad aprire la porta prima di aprire la porta controllate lo spioncino insomma e poi in caso di dubbi ovviamente sono numeri 112 113 e 117 ancora cronaca Aspoltore prende a calcio un pensionato denunciato un 50enne sotto controlli a tappeto nei negozi compro oro un 72enne finisce nei guai cambiamo pagina restiamo a Pescara contromano sulla variante si schianta pensionato alla guida di una panda esce dall'area di servizio in senso opposto a quello consentito e provoca un incidente illesi conducenti per fortuna cambiamo argomento chiavaroli così si imbatte la corruzione il sottosegretario della giustizia occorre prevenzione e lavorare soprattutto all'interno delle scuole sempre a Pescara Mantoneo 800 studenti per il presepe vivente il 21 dicembre il centro storico la seconda edizione della rappresentazione sacra casa d'annuncio sarà trasformata nella stalla e i remaggi saranno tre donne oggi in piazza salotto gli infermieri incontrano i cittadini dalle 9 alle 18 appuntamento del persona infermieristico delle unità operative di ematologia oncologia con proprio con i cittadini oggi con la Lilt prevenzione antitumore al liceo Galilei giriamo pagina oggi l'inaugurazione della rotonda Totò davanti all'Aurum gli eventi di Natale bande musicali in centro a Porta Nuova al mercato di Piazza Muzzi la mostra dedicata a Di Giampaolo in alto stasera campagna per Lail al Pala Elettra con l'Antoniana Volley ancora i cesti della solidarietà a Campagna Amica oggi apertura speciale del mercato di Via Polucci con i prodotti delle aziende colpite dal sisma a Montesilvano cronaca operazione dei carabinieri vendono droga in auto gli arrestati sono però già liberi i militari assistono alle trattative con i giovani clienti e fermano una coppia blizza l'istituto Alessandrini la marijuana lanciata davanti alla palestra e poi la delegazione in visita Dog Village modello virtuoso per gli esperti del Sudafrica cambiamo pagina rimaniamo a Montesilvano i ragazzi passeggiano in carrozzina i studenti della media troiano-delfico hanno sperimentato tutte le difficoltà e sono tante delle persone affette da disabilità andiamo a Francavilla perché Michele Placido inaugura l'auditorium di Palazzo Sirena l'attore ospite d'onore al taglio del nastro passo le vacanze qui e merito si candida già per la cittadinanza onoraria e proprio su Palazzo Sirena andiamo a ascoltare le parole il primo cittadino di Francavilla Antonio Luciani quella di oggi è una giornata storica per Francavilla Sindaco Luciani Palazzo Sirena torna a nuova vita e con un nuovo e rinnovato auditorium e si è proprio una giornata storica il termine è corretto non dobbiamo aver paura di usarlo questa struttura ha avuto l'agibilità a distanza di 27 anni dalla sua costruzione noi italiani ce la prendiamo comoda però oggi finalmente ci troviamo dentro il Palazzo Sirena rinnovato perfettamente agibile con tutte le sue certificazioni questa sera lo inaugureremo nel migliore dei modi con presenze importanti e soprattutto con tanti cittadini francavillesi che sono curiosi di vedere questa nuova struttura nuova struttura che si apre alla città il Palazzo Sirena ancora di più diventa il simbolo di Francavilla al mare è il simbolo di Francavilla al mare lo è sempre stato lo sarà per sempre e inoltre questa struttura sarà in grado di rilanciare l'economia cittadina perché come ho spiegato in più occasioni questi sono 270 posti che verranno riempiti per almeno 100 volte l'anno quindi significa portare 27 mila persone al centro della città significa economia per i bar per i negozi per tutto il settore del commercio e del turismo una giornata questa importante che anticiperà probabilmente di qualche mese un'altra giornata da ricordare quella che vedrà la nascita della nuova piazza di Piazza Le Sirene sì ora c'è ancora tanto da fare c'è il portale da riprogettare con gli architetti Ricci Conti e Moccia che hanno ottenuto il riconoscimento di questa struttura come struttura di elevato valore architettonico e artistico da parte del Ministero dei Beni Culturali quindi un portale da rifare ma soprattutto una piazza da rivedere completamente che è una piazza che termina con il suo pontile a mare quindi tutto un centro cittadino che andrà ristrutturato e rivalorizzato Rimaniamo sul centro andiamo nell'area vestina a Penne in particolare quanti poveri i 3 su 4 sono pennesi l'emporio solidare della Caritas che fornisce vestiti ha assistito 1826 famiglie in più rispetto al 2015 cambiamo il quotidiano e ritorniamo a Pescara lo facciamo con il messaggero l'apertura è dedicata alla strada pendolo fino a San Donato approvato in aula il piano triennale delle opere pubbliche una bretella parallela via del circuito da via Pian delle Mele lunedì il sindaco firma le convenzioni con la presidenza del Consiglio dei Ministri il progetto entro 60 giorni e poi i lavori a centro pagina Tari più cara ma nessuna stangata l'assessore Marcheggiani conferma i rincari del 5% Antonelli di Forza Italia chiede adattiva il piano industriale e su questo promette battaglia cambiamo pagina Toghe in carriera a Roma il PM delle inchieste politiche definitivo il trasferimento del magistrato Gennaro Varone anche nella procura della capitale avrà le funzioni di sostituto è stato un protagonista dell'attività giudiziaria degli ultimi 15 anni tanti casi scottanti ma numerose pure le assoluzioni e paura in tangenziale come abbiamo visto prima auto contro mano frontale per fortuna senza feriti sempre a Pescara la panda della droga due arresti dal finestrino rifornivano giovani studenti trovata marihuana anche in una scuola siamo a Montesilvano i clienti sono stati messi sotto Torchio Francavilla la sirena bis battezzata da Luciani il torrione inaugurato ieri con il recital di Placido e Cavuti ancora polemiche sull'abbattimento cambiamo città adesso andiamo all'Aquila Ponte Belvedere raddoppia il costo della ristrutturazione dal milione previsto dall'università si passa ai due del progetto Romolini al posto dei soli dispositivi di appoggio prevista l'intera sostituzione della campata di spalla il municipio vuole recuperare i soldi mai spesi per lo sport i riconoscimenti assegnato il premio Guido Polidoro vincono Fusco Cosenza e Centola scendiamo ancora viabilità variante sud scende in campo lancio soluzione per mettere tutti d'accordo andiamo scendiamo ancora presunti abusi da parte del papà i giudici sentiranno la bambina andiamo ad Avezzano feste arrivano abusivi e mendicanti i tremini da Roma portano in Marsica persone senza fissa dimora pronte a delinquere l'allarme del comando dei vigili urbani i carabinieri arrestano un giovane romeno vestito da babbo natale era colpito però da un ordine di carcerazione scatta il giro di vite ad Avezzano ladri con la pistola ritrovata l'automobile scendiamo in basso tonno rosso avariato maxi sequestro sulla A25 siamo a Sulmona e poi a Roccarato Zomarin Schipass siglato l'accordo ma a Sulmona centro ancora senza acqua baristi all'attacco sempre a Sulmona a Chieti a Chieti a 15 anni vuole sparare all'amico per vendetta la polizia lo ferma prende la pistola del nonno dalla cassaforte sale sul bus e arriva a un bar della stazione la mamma si accorge di tutto e chiama il 113 gli agenti lo bloccano e scatta ovviamente la denuncia di spalla famiglie dei bimbi malati arrivano 200.000 euro in basso università il professor Bonetta va via l'università perde un big il docente dell'ateneo l'11 dicembre ha preso la cattedra a Catania non avevo più motivi per restare dice per la sanità andiamo a Lanciano all'ospedale Renzetti dove sale la rabbia dei precari i 150 lavoratori dell'asl di Lanciano vasto e Chieti in presidio permanente all'ospedale fino al 23 dicembre assunti da aziende esterne chiedono il riconoscimento dell'anzianità di servizio per partecipare al concorso ad Atessa truffata salvata dai carabinieri e poi rimanendo sempre sulla questione sanità distretto di base Magnacca contro Paolucci in basso estrazione di gas a bomba cittadini allarmati per un secondo progetto andiamo a Teramo adesso l'acqua del Gran Sasso ho chiesto l'accesso agli atti iniziativa dell'osservatorio lettera protocollata al vicepresidente Lolli i laboratori di fisica nucleare devono garantire la massima sicurezza di spalla Paolo Gatti cena di Natale con 180 invitati ovviamente con vista sulle prossime elezioni comunali a centropagina provincia Prati di Tivo la stagione inizia il 22 dicembre dopo le riparazioni e in basso Kuwait terzo colpo consecutivo al distributore di terra bianca sulla Teramo mare a Giulianova l'inchiesta Castrum valgono le intercettazioni difensori degli otto imputati eccellenti tra imprenditori e ex dirigenti del comune di Giulianova hanno affilato le armi 43 fascicoli tutti riunificati in un processo monstre per i dati contestati di corruzione concussione e falso ideologico e poi in basso la cattiva notizia ha morto il patron di Borgo Spoltino prima di passare allo sport torniamo sul centro cambiando anche qui province e città ovviamente a Chieti pendolari sotto accusa piove negli autobus sotto l'acqua piove negli autobus della tua passeggeri con gli ombrelli aperti protestano gli studenti che da Lanciano viaggiano verso Casoli Palena Letto Palena e Atessa la società dice forse la guarnizione consumata tra il tetto e la lamiera e dunque sono stati ordinati dei nuovi controlli e vedete la manopola del cambio dell'autobus con delle gocce di pioggia e anche gli ombrelli che sono praticamente tra all'interno degli autobus per fare in modo che i passeggeri rimangano più asciutti possibili ma evidentemente non è sempre così caos luminari a Chieti laser promessi non arrivano più strappo tra il comune e i commercianti all'Aquila i ladri hanno sparato per uccidermi notte di paura d'Avezzano il racconto parla il commerciante che si è imbattuto nei banditi cresce l'allarme dei furti colpi anche a Capistrello e Tagliacozzo altra notizia dalla luce una bimba sull'ambulanza il parto durante il viaggio sulla A25 a centropagina il dramma di Oana sconvolge Balsorano oggi celebrati i funerali della 19enne che si è tolta la vita dopo aver perso il posto di lavoro sempre in basso ascensore in tilt paziente mora in reparto l'Aquila tragedia in ospedale va nelle terapie il manager dell'Asle nessun collegamento proprio con il guasto all'ascensore a Teramo trovato morto lo chef Marrangoni ucciso in casa da un malore a 51 anni era il titolare della country house Volgo Spoltino e al fiere della cucina teramana la stagione sciistica Prati di Tivo aperti per Natale il presidente di Sabatino annuncia una svolta nel 2018 e come abbiamo visto l'inchiesta Castrum verso un unico processo prima udienza a Teramo per 8 imputati per gli appalti e le tangenti a Giulianova e proprio visto che siamo in provincia di Teramo andiamo con il quotidiano la città proprio a Teramo le controanalisi escludono contaminazioni il ruzzo prova a spiegare la presenza di trimetilbenzene nella fontana di via Porta Carrese a ridosso della chiesa di Sant'Antonio forse è colpa delle auto in circolazione sempre a Teramo ma a Terra Bianca sulla Teramo Mare quarto colpo in meno di un mese a Terra Bianca i ladri fanno saltare la cassa continua con una bombola di acetilene per portare via poi solo 1200 euro sempre a Teramo la provincia riempie le vetrine vuote per Natale spazi sfitti messi a disposizione dei privati con un bando a sorteggio questioni che riguardano il palazzo di giustizia rinnovate le tre cupole del palazzo di giustizia appunto terminato l'intervento da 210 mila euro del ministero della giustizia dopo i problemi con infiltrazioni e anche con i distacchi che ci sono stati in provincia 2 milioni per la sicurezza degli sciatori Prati di Tivo pronti a riaprire entro venerdì prossimo a causa dei danni del vento e anche per l'assenza di neve soprattutto con le temperature non proprio invernali di questi ultimi giorni a Tortoreto invece aperta l'inchiesta sul buco dei buoni pasto dopo la denuncia del sindaco Piccioni la procura indaga sui 180 mila euro mai corrisposti al comune appunto Vibratiano e poi Gabriele Marrangoni stroncato da un infarto il pluripremiato patron di Borgo Spoltino è morto nella sua abitazione di Selva Alta di Mosciano vediamo anche chi era eclettico 51 anni era stato prima tecnico informatico poi musicista diplomato e da due decenni riscopritore della cucina teramana andiamo a Giulianova per la politica Nausicaa Cameli contesa tra due tavoli il vice sindaco preferisce la cena di Giuliesi per sempre a quella di Guido Baldi Ciafardoni e D'Ignazio mazzette in comune ovviamente inchiesta Castrum i giudici rigettano le eccezioni dei difensori al Vial nel tribunale di Teramo il processo per corruzione la Mastropietro dice no a telecamere e fotografi a Roseto invece altro pastrocchio sugli impianti sportivi ancora una volta l'amministrazione costretta a ritirare la delibera per varare il regolamento adesso apriamo la pagina dello sport perché andiamo in casa Pescara anche se il Pescara gioca non oggi come farà la Serie B ma domani ma è un Novara in arrivo Zeman rivoluzione il Pescara dopo il capo di Cesena spazio a Perrotta Coulibaly Mancuso e forse anche Elisalde vediamo rapidamente perché la mezzala senegalese rileverà lo squalificato Valzania espulso a Cesena Mancuso giocherà al posto di Del Sole Zampano verso l'esclusione Mazzotta potrebbe lasciare il posto proprio a questo ragazzo qui Edgar Elisalde siamo tutti curiosi di vedere nel caso dovesse giocare come se la caverà intanto vediamo i risultati di Serie B con il pareggio davvero incredibile con il Venezia avanti 0-2 fino a pochi minuti dalla fine Foggia che nei minuti di recupero ha ripreso una gara che sembrava già persa per il Pescara vediamo anche il messaggero perché Corini cerca il bis contro Zeeman inutile negarlo dice il tecnico del Novara è un maestro di tutti abbiamo appreso dai suoi schemi unico precedente a favore del mister del Novara per il Pescara è fondamentale allora andiamo ad ascoltare Eugenio Corini è un allenatore che stimo molto perché sia dal punto di vista tattico sicuramente ha dato al calcio molto con la sua idea di gioco sugli sviluppi offensivi sulle qualità tecniche ha saputo valorizzare tanti giocatori nella sua carriera ed è un uomo che comunque è sempre stato coerente con un'idea e l'ha sempre trasmessa si può essere più o meno d'accordo sui concetti ma comunque è un uomo che ha una coerenza di fondo molto importante ogni squadra per me si gioca tutto e tanto ogni partita e noi con questo spirito scenderemo in campo a Pescara nel rispetto sempre dell'avversario dei momenti che vive ma anche la capacità di andare a prendersi dei vantaggi dove si possono prendere nasce sempre dall'attitudine da come tu prepari la partita e da come la sai reggere durante lo svolgimento da questo punto di vista ci stiamo preparando bene è stata una settimana lunga avendo avuto la possibilità dopo la partita con la Cremonese di lasciare libri due giorni i ragazzi ma di iniziare lunedì il lavoro e di conseguenza abbiamo lavorato in profondità molto bene stiamo recuperando giocatori che ad inizio settimana purtroppo non erano disponibili e lo saranno da oggi e di conseguenza andremo sicuramente in campo con la voglia di portare a casa un risultato positivo continuiamo la lettura bianco bianco rossi alla ricerca di tre rinforzi last minute colpo del Francavilla che ha ingaggiato l'attaccante serbo Alexic proveniente dal Taranto di spalla eccellenza Lecchieti torna mister Marino presa anche la punta Daniel Margarita scendendo saliamo in serie C il Teramo cerca il primo acuto in trasferta oggi a Reggio Emilia senza Samadio e Fratangelo Asta ripropone Tulli e Bacio Terracino in attacco e allora andiamo a vedere anche il Teramo sul centro Asta cambia l'attacco Tulli e Bacio Terracino per un Teramo d'assalto oggi il diavolo nella tana della corazzata reggiana il tecnico bianco rosso è la squadra più in forma vediamo le squadre che potrebbero scendere in campo alle 18.30 Teramo con calore tra i pali linea difensiva a tre con Caidi Speranza e Sales Ventola di Grazia Graziano Ilari e Varas a centrocampo Bacio Terracino e Tulli in attacco e a proposito di Teramo reggiana ci andiamo ad ascoltare le parole del pregara di Antonino Asta proprio alla vigilia del match contro i Granata conferenza stampa di ieri ovviamente oggi si scende in campo lo ascoltiamo con due attaccanti anche due centrocampisti soprattutto i due attaccanti poi vedrete domani ma se qualcuno ha già capito quali saranno le mie intenzioni di avere dei giocatori rapidi dei giocatori veloci per ripartire molto perché loro è una squadra che attacca con molti giocatori dobbiamo fare molta densità e ripartire immediatamente ogni partita ha la sua storia quindi in certe situazioni bisogno di uno che davanti ti difende palla per far salire la squadra domani abbiamo bisogno di ripartire velocemente e lui è uno di quelli anche se è esterno che ci può far ripartire come può essere De Grazia in mezzo al campo o i due attaccanti dove li sceglierò domani in funzione proprio per questo motivo mi ricordo che vi ho detto a voi che magari con certi giocatori dall'inizio non posso giocare non avendo una boa una boa particolare no no ne sei una boa particolare poi ci sono partite che quelle caratteristiche ti dicono di fare in una certa maniera guardo ho provato molto questa settimana anche il 3 4-1-2 quindi tre attaccanti e non è che non ci sono state risposte buone perché poi soprattutto lavoriamo poi faccio una partita con la Beretti mi rendo conto certe cose poi la settimana può non essere come la partita è vero però loro hanno un giocatore che in questo momento rompe gli equilibri avversari che è Cesarini lui si mette dietro i due attaccanti perché loro è un finto 4-3-3 perché Cianci sta esterno ma in verità viene molto dentro c'è Altiniere Cianci e Cesarini e lui in mezzo al campo quando parte in questo momento oltretutto a mio avviso è uno dei giocatori più forti della categoria in quel ruolo se non è il più forte e ho bisogno di avere uno là ma non che marchi a uomo ma ci manca però un giocatore che in quella posizione possa lui trovarsi un muro ecco per poi ripartire sì quindi fisicità però almeno uno dei tre che possa attaccare lo spazio e naturalmente sarà De Grazia con due attaccanti e due esterni che dovranno arrivare fino in fondo per mettere in difficoltà credo che come tutte le cose soprattutto contro questa squadra che ti dà spazio te lo dà e quindi abbiamo bisogno il campo aperto gente che corre con quello soprattutto sarà la scelta è stata la mia scelta in settimana e vediamo anche il Teramo sul quotidiano la città il Teramo ci prova Asta dobbiamo usare diavolo in campo alle 18.30 con la Reggiana modulo 3-5-2 davanti Bacio Terracino e Tulli Graziano sarà il playmaker e poi andiamo avanti per vedere anche delle notizie rapidissimamente che riguardano il basket andiamo in casa Roseto casa grande lancia Roseto ecco come si batte Ferrara il capitano degli Sharks suona la carica in vista della gara di domani o nel pericolo principale ma noi siamo in crescita dopo la vittoria con Iesi a proposito di basket stasera il Giulianova va all'assalto del Nardò e infine chiudiamo con il calcio a 5 pocherissimo nel Pescara oggi c'è l'acqua e sapone il Delfino batte 5-1 il Cisternino mercoledì si giocherà la Supercoppa a Chieti alle 18.30 sconto diretto tra i nerazzurri di Ricci e il Napoli di spalla volley serie B in campo le squadre femminili domani il derby a Pescara con questa notizia noi chiudiamo mattino 6 che torna lunedì puntuale alle ore 8 io vi ricordo alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale con tutte le notizie che riguardano l'Abruzzo è tutto buona giornata l'Abruzzo Grazie a tutti